Angribaiano non avrà la cornice degna per una gara del genere. La sfida tra Salernitane e Granata si disputerà a Mercato Sanseverino a porte chiuse. Una partita quella tra la squadra di Gargiulo e quella di Sant'Aniello, aperta di sicuro ad ogni pronostico. Una gara dove il risultato non è scritto in partenza, con due formazioni che si daranno battaglia dall'inizio alla fine per i primi 90 minuti della semifinale di Coppa Italia di promozione. Una partita che vedrà di fronte due organici di grande qualità. I grigiorossi sono primi nel girone D di promozione a 43 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla San Maurese. Francipane e compagni terzi nel girone C con 35 punti ottenuti. Un match dal sapore particolare per diversi protagonisti della squadra di casa che nel recente passato hanno giocato nel Serino. Minauda, Narciso, Galeone e Manco. Quest'ultimo reduce dalla vittoria del torneo lo scorso anno con il San Tommaso, senza dimenticare la lunga amicizia tra il bomber angrese Michele Tarallo e il presidente giocatore Granata Tony Davanzo. I due hanno fatto le fortune della Sarnese Indy nel torneo 2012-2013. Dal lato opposto ci sarà un baiano che vuole continuare a stupire tutti gli appassionati di calcio dilettantistico. I Granata sognano l'eccellenza e proveranno a sfruttare la competizione tricolore per riuscire a staccare il passo.